Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Dopo il freddo e le nevicate dei giorni scorsi, intense correnti di scirocco molto miti hanno interessato il nostro territorio. Infatti nella giornata di oggi abbiamo avuto temperature piuttosto elevate in montagna, pensate con uno zero termico oltre i 3000 metri di altitudine, per cui tutta la neve che è caduta nei giorni scorsi ormai se n'è andata sulle nostre Alpi Orobiche. Vedete come nel corso proprio del weekend questo anticiclone si posizionerà proprio in direzione delle nostre regioni centro-settentrionali dell'Italia portando un miglioramento deciso del tempo che si concretizzerà proprio nella giornata di domani e soprattutto quest'anticiclone di matrice africana spingerà dell'aria calda proprio in direzione del nostro territorio portando le temperature sopra la media del periodo. Cosa accadrà invece nel corso della settimana? Inizialmente avremo ancora l'anticiclone sul nostro territorio almeno fino alla giornata di martedì, ma vedete come una bassa pressione con dell'aria fredda associata dalla Scandinavia tenderà via via a scendere verso le nostre latitudini favorita anche dall'innalzamento dell'anticiclone delle azore in direzione delle isole britanniche. Per cui da mercoledì torneranno di nuovo le temperature piuttosto fredde per il periodo, infatti questo nucleo di aria gelida insisterà sulle Alpi riportando, pensate, ancora delle spruzzate di neve intorno ai 1800 metri di altitudine e un deciso calo delle temperature. Per cui vedete l'autunno va proprio sull'altalena, dopo temperature basse siamo passati a temperature elevate per il periodo e nel corso della settimana prossima torneranno a ridiscendere come proprio su un'altalena. Vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani. Domani arriverà il sole su gran parte del nostro territorio, con cieli per lo più poco nuvolosi su gran parte del nostro territorio, non escludo, specie al primo mattino, dei cieli grigi o eventualmente qualche locale nebbia, ma soprattutto nella zona della bassa valle seriana. Nel corso della giornata invece le schiarite si faranno sempre più ampie, avremo degli ampe zone di soleggiamento, specie in montagna, dove il clima sarà particolarmente mite per il periodo. Vedete, ho indicato uno zero termico a 3200 metri di altitudine. nel corso della giornata addirittura si spingerà a valori quasi di agosto a 3500 metri altitudine. Quindi, ripeto, tutta la neve sulle nostre Eorobie scomparirà. Bel tempo anche nella zona della medio-bassa valle seriana e anche nel lago di Iseo. Con clima abbiamo detto decisamente mite. Pensate che le temperature domani, anche a Clusone, raggiungeranno i 18 gradi e a Bergamo 20-21 gradi. Quindi un clima, direi, da inizio settembre. Cosa accadrà nella settimana? Abbiamo detto lunedì, ancora nulla di particolare. Saremo ancora interessati dall'anticiclone, quindi una giornata abbastanza mite, con temperature gradevoli, temperature anche minime, abbastanza elevate, comprese fra i 9 e i 10 gradi, massime, che raggiungeranno i 16 gradi. Martedì, soprattutto dalla serata, le prime avvisaglie di questo nucleo di aria fredda che scenderà direttamente dalle latitudini più settentrionali. Abbiamo indicato, vedete, lo zero termico che da 3200 metri altitudine scende a 2500 metri. E anche le temperature massime scendono di qualche grado, con massime a Clusone intorno ai 13 gradi. Nella serata di martedì non escludo anche qualche isolato piovasco sul nostro territorio. Mercoledì una giornata piuttosto instabile, variabile, con possibilità di piovasche e tornerà ancora alla neve intorno ai 1500-1800 metri altitudine, con un deciso callo delle temperature, tanto che nei valori massimi a Clusone non supereremo i 10-11 gradi. Giovedì torna il bel tempo sul nostro territorio, ma rimarremo sempre in una circolazione orientale, quindi con venti abbastanza freschi orientali, temperature abbastanza fresche, comunque nella media del periodo comprese fra i 6 e i 15 gradi. Venerdì sarà una giornata all'insegna della variabilità con qualche annuvolamento in più, ancora in un contesto di tardo autunno, con uno zero termico intorno ai 2300 metri altitudine. Le prime proiezioni per il prossimo fine settimana vedono un tempo ancora caratterizzato dal bel tempo. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Vediamo tutti i nostri aspetti. Grazie.